E' di ampio respiro il mercato dell'Avellino per l'avvio di una settimana che regalerà altre pedine a Balter Raffreddo Novellino. Il raduno del 13 luglio si avvicina e allora la società bianco-vierde accelera su più fronti. Dopo aver ufficializzato gli ingaggi di Simone Pecorini e Simone Rizzato e il riscatto di Lorenzo Laverone, è ormai solo questione di ore per le firme di Francesco Di Tacchio e Nicola Falasco. Il 27enne centrocampista di Trani e l'esterno padovano classe 93 lasceranno rispettivamente il Pisa e la Roma per legarsi all'Avellino con un contratto triennale. Stessa formula per il ritorno di Luca Lezzerini che lascerà definitivamente la Fiorentina per il bianco-vierde dopo i sei mesi vissuti da Viceradunovic. L'estremo difensore è assistito da Michelangelo Minieri, agente anche di Riccardo Marchizza. Ultime battute nella trattativa per il centrale difensivo classe 98, scuola Roma, prospetto nazionale che a meno di clamorose sorprese figurerà nella rosa bianco-vierde per l'esordio tra i grandi. La volontà di giocare con continuità alla base della scelta del Capitolino che preferisce Avellino anche a squadre di Serie A come Sampdori e Sassuolo. Intanto la società erpina è pronta nuovamente ad attingere dal Belgio. Pieriv Ngaoua si vestirà di bianco-vierde nella prossima stagione. Dal portale belga Valfut l'affare tra il difensore centrale di Liegi e l'Avellino viene dato già per concretizzato. Classe 92, 1,87 m d'altezza, Ngaoua ha in carriera anche un'esperienza in Ungheria con l'Uipest ed è reduce da un percorso tra Jupiler e Pro League, la Serie A e la Serie B del Belgio con il Liouven.